Sopraluogo del sindaco Dario Nardella a Londa, nel Mugello, insieme al sindaco Tommaso Cuoretti su diversi lavori conclusi e in essere coordinati dalla città metropolitana di Firenze. Tra questi i lavori ormai conclusi su Via Roma e altri interventi di rigenerazione diffusi in un'area che rappresenta uno snodo anche turistico tra la montagna fiorentina e la valle. Tra i luoghi al centro del sopraluogo anche la visita all'iniziativa imprenditoriale ABFSRL di Londa che si occupa della lavorazione e della distribuzione di carni. Un luogo dove ci sono anche eccellenze imprenditoriali come l'impresa di carni che rappresenta un polo logistico che serve addirittura a tre regioni in tutta Italia. Questo significa che nelle aree interne si può e si deve investire sia per quanto riguarda il lavoro sia per quanto riguarda l'accessibilità e la mobilità perché l'attenzione verso le aree interne è fondamentale verso i piccoli comuni, i piccoli paesi rappresentano un anello di congiunzione con le grandi città e per questo noi abbiamo messo al centro lo sviluppo delle aree interne per tutta l'area metropolitana.